In questi giorni in cui Teramo vive una festa sportiva giovanile all'insegna dell'unità tra i popoli, l'associazione Teramo Nostra interviene sullo Ius Soli, di cui si è parlato durante il Consiglio Comunale con esternazioni tali da contraddire lo spirito di fratellanza condiviso dalla cittadinanza. Oggi Teramo Nostra, tramite una lettera aperta, chiede l'intervento del Vescovo. Piero Chiarini, in che termini? Teramo, la Coppa Interamia, la città aperta al mondo che chiude dopo, si chiude a Riccio senza avere questa prospettiva di chi è nato in Italia di avere la possibilità di essere cittadino italiano. Io ho avuto un fratello emigrante, i figli sono nati in Svizzera ma lì non hanno avuto nessuna difficoltà a essere, hanno la doppia cittadinanza. Quindi non capiamo questa chiusura di una città che si dice aperta al mondo. Era un modo per i politici, per i nostri amministratori di riscattarsi, di far vedere, no di far vedere, di far concretamente un gesto lungimirante. Purtroppo non hanno voluto e questo dispiace sia alla nostra associazione culturale ma penso anche a tantissimi cittadini. Ecco, quindi oggi cosa si chiede al Vescovo? Qual è l'intervento? Il Vescovo è l'autorità morale della nostra città, si chiede di intervenire su questa problematica che interessa veramente tante cittadine affinché faccia anche la sua, dica la sua, preme, non è che lui ha un potere spirituale. Quindi questo potere spirituale di convincimento che lo esponesse, premesse anche sui nostri amministratori che si sono dimostrati purtroppo di una chiusura che non gli fa onore.